Continua il volo dell'Alfa Catania nella serie C-Silver siciliana di basket. Gli alfisti regolano senza troppi problemi il Melfast Gela al Palacus imponendosi per 98-68. Sfida a senso unico per gran parte del tempo. Gela prova a sopperire al divario tecnico con l'agonismo ma senza mai arrivare ad avere una concreta possibilità di sorpasso sui catanesi. Il break di 33-8 del terzo periodo in favore di Abramo e compagni spegne qualsiasi velleità. La Virtus Ragusa tiene il passo degli alfisti ma fatica notevolmente nel match del Palavolcan di Acireale. I ragazzi di Angirello infatti si piegano solo sui titoli di coda della gara. Gli accesi concludono sul 30-47 la prima parte del match. Lo svantaggio cala a fine terzo periodo sul 56-63. Il meno 7 regge fino a pochi minuti dalla fine quando la maggior concretezza dei ragusani fa maturare un 82-89 prezioso. Lo sport club Gravina cade ad Alcamo. Match in costante inseguimento per gli etnei che al terzo periodo vedono precluse ogni possibilità di successo con il 70-49 parziale. L'andamento della sfida non cambia negli ultimi 10 minuti con gli Alcamesi che portano a casa un 92-65 pesante in ottica salvezza. Ma in gara lo sport in club Adrano in casa del basket school Messina e sul sulto Adranita arriva durante il terzo parziale Quando Abdul e compagni si portano a meno 4 lunghezze sul 42-38 è però un fuoco di paglia perché i peloritani riprendono il controllo della sfida vincendo poi per 75-55. Cade il basket Giarre che duella alla pari con Comiso fino al terzo periodo ma che paga il 21-4 subito negli ultimi 10 minuti che vale il successo degli Iblei per il complessivo 84-61 pesante sconfitta anche per il Cuscatania che regala i primi punti stagionali all'Orlandina Lab vittoriosa sui Cussini per 75-66. Grazie a tutti.